La condotta principale dell'acquedotto gestito da marche multiservizi che parte dalla potabilizzatore di calcinelli e che serve tutta la provincia ha subito una grossa rottura nella mattinata di oggi. Viste le notevoli dimensioni della condotta migliaia e migliaia di metri cubi d'acqua in poco tempo hanno saturato il terreno e allagato i campi a valle ed iniziato ad entrare in scantinati e garage delle case circostanti. Gli abitanti hanno subito avvisato i vicini del fuoco vicini appunto alla rottura che hanno monitorizzato la situazione e attivato le squadre di marche multiservizi che hanno provveduto a chiudere la valvola principale a monte della rottura per evitare ulteriori conseguenze. Io mi sono accorta stamattina alle 7 quando mi sono alzata ho tirato sulla seranda della finestra ho visto sto gran lago d'acqua e poi ha chiamato il mio genero che era di sopra e niente poi ha chiamato l'aset sono dei pompieri anche mio marito c'è andato dopo di un po' sono venuti hanno guardato lì ma adesso c'è il guaio il guaio è grosso. Nel garage avete acqua però? E' piena ma poi viene giù dal muretto dal muretto di cinta e penetra giù va tutta giù si riempie ancora niente così non c'è niente di straordinario abbiamo avvisato sono venuti loro adesso devono venire qui. Il potabilizzatore di calcinelli da cui parte la condotta che serve sia Fano che Pesaro è il principale della provincia quindi un'emergenza di estrema delicatezza che come ci ha sottolineato al telefono Mauro Tiviroli amministratore delegato di Marche Multiservizi grazie alla tempestività di intervento e alla professionalità degli operatori non ha causato disservizi agli utenti. Una mano l'ha anche data il telecontrollo che ha rilevato subito in centrale un calo di pressione facendo scattare così l'allarme. I lavori sono stati portati avanti fino al tardo pomeriggio di oggi con una saldatura della condotta ed il successivo allagamento graduale della tubazione per non causare ciò che in gergo si chiama colpo da riete.